Una delle domande che mi fate più spesso quando faccio i video sulla generazione delle immagini è come avere la coerenza dei personaggi. Non so se coerenza è la parola giusta, ma avere dei personaggi che siano sempre uguali. Quindi ideo un personaggio, una foto, un'illustrazione, quindi qualcosa di non reale, e poi magari voglio quella stessa figura e quella stessa persona in pose diverse, in situazioni diverse, con abbigliamento diverso e così via. Come la possiamo fare questa cosa? Vi faccio vedere come farla con Leonardo, usando un paio di tecniche diverse. E prima di tuffarci nel vivo del tutorial, se vi piace la roba che vi porto qua sopra su questo canale YouTube, ricordatevi che potete supportare il canale in due modi. Potete premere il pulsantino grazie e fare una piccola donazione. E poi, se volete, potete fare una donazione mensile cliccando il pulsante dell'abbonamento. Sono pochi euro al mese, decidete voi quanto, e vi sbloccate pure delle funzioni da extra. E vi ricordo che se volete studiare l'intelligenza artificiale con me e con altri esperti, ho un'academy che si chiama IA360. Andate su ia360.academy, il link è qui sotto in descrizione. Tuffiamoci nel vivo del tutorial. Quindi siamo dentro Leonardo. Voglio partire, questo è il community feed. Partiamo dal prendere qualcosa che è già presente qua sulla community. Quindi un'immagine che ha fatto qualcuno e che ci piace, sulla quale vogliamo magari elaborare, fare delle modifiche noi. Poi, scrolliamo un po', voglio prendere una cosa non realistica, più, diciamo, di illustrazione, che secondo me è sempre più interessante fare degli esempi così. Vediamo qualcosa di carino. Ce ne sono diverse, molto molto belle. Vediamo... No, forse qualcosa che ho già superato. Ho superato un paio che mi piacevano molto. Vediamo un po', vediamo un po'. C'era questa qua, tipo con... Facciamo questa. Facciamo questa, però la modifichiamo leggermente. Allora, quando cliccate su un'immagine dentro Leonardo, ve l'ho fatta vedere questa cosa nel tutorial, potete partire da quell'immagine per fare delle modifiche. C'è questa cosa molto comoda che si chiama Remix. Oppure potete fare semplicemente copiare il prompt. Io faccio il Remix perché il Remix si porta dietro anche le impostazioni. Quindi stessa dimensione, stesso tipo di preset, stesso tipo di modello e così via. Quindi facciamo un Remix di questa. Ma, diciamo, facciamo dei cambiamenti. Perché non voglio il character sheet. Quindi togliamo tutta questa roba qua. 64K, bla bla bla, eccetera eccetera. Quindi una bellissima don elfo con capelli marroni, vestito rosso, accessori con una qualità, diciamo, estrema dei dettagli e della texture. Generiamo questa immagine. Guardate qua non tocco niente, perché questo è il modello che c'era impostato, il preset e così via. Faccio un'immagine per non spendere tanti crediti e la generiamo. Quindi partiamo da questa prima immagine e vediamo cosa possiamo fare. Quindi già la funzione da Remix è una cosa molto molto comoda se volete partire da immagini. In questo caso sono immagini di altre, però, diciamo, può essere utile per ispirazione e poi fare delle piccole modifiche vostre, diciamo, ulteriori. Allora, l'immagine ce l'ha generata. Adesso cosa possiamo fare da questo momento poi, se vogliamo tenere questa, diciamo, figura coerente con le prossime modifiche? Ci sono un paio di tecniche che possiamo utilizzare. Allora, la prima che vi faccio vedere è basata sul seed. Il seed è questo seme, no? Questo numero, diciamo, univoco legato all'immagine. Quindi io mi copio il seed. Il seed, se volete, lo potete vedere qua. Andate dentro, aprite i tre puntini, andate nelle info e ci sono tutti i dettagli di generazione. Quindi la pipeline, il preset, il tipo di prompt magic e così via. E c'è questo numerino qua. Me lo copio, oppure me lo potete copiare semplicemente facendo qua, copy seed. E poi vado qua in basso, nelle impostazioni, e posso mettere il seed dentro questo box. Quindi sto dicendo di, vedete, se c'è andato sopra, gli dico, guarda che questo numero, che è esattamente un numero random, invece adesso gli do un seed fisso che utilizzare. E in particolar modo è quello che abbiamo utilizzato in precedenza. Quindi adesso facciamo la modifica. Quindi beautiful health woman with brown hair, bla bla bla. Facciamo, che possiamo fare? Riding a horse. Quindi la facciamo su un cavallo. Generate. E adesso quello che vedete è che l'immagine è coerente, cioè è la stessa donna elfo che abbiamo generato poco fa, in una situazione diversa. Aspettiamo la generazione di Leonardo, non ho toccato nessun'altra impostazione, avete visto? Il modello è lo stesso e così via. Guardate, esattamente stesso personaggio, solo in una situazione diversa. Quindi questa è una prima approccia che potete utilizzare. Vi faccio vedere la seconda tecnica che potete utilizzare, le potete pure mischiare, vedete quale funziona meglio per voi. Mi scarico queste immagini, in realtà non per forza, perché da poco hanno fatto anche senza la possibilità di scaricarle. Vi faccio vedere image guidance come funzionalità. Image guidance è questa funzionalità nella quale voi potete caricare delle immagini a Leonardo e dirgli utilizzami queste immagini di partenza per generare le prossime, sono una sorta di linea guida se volete. Allora, c'è anche questa possibilità, ultimamente ci fa anche caricare le immagini recenti, quindi altrimenti se volete potete invece caricare una vostra, ok? Quindi se l'avete generata da lì, come giorni, l'avete presa da Google Immagini, è una vostra fotografia e così via. Però in questo caso, siccome vado a prendere le immagini, gli carico questa. Quindi gli carico questa qua e vedete che ci sono due parametri qua che possiamo settare. La tipologia, quindi come la vogliamo utilizzare. Image to image, c'è scritto qua, significa che si va a prendere il look, ok? Quindi mi sta dicendo copiami il look di questa immagine. Depth invece va a prendere, diciamo, va a copiare la profondità. Edge va a copiare, diciamo, come dirlo in italiano, i bordi, i confini di quell'immagine e così via. La posa, oppure se c'è del testo possiamo prendere del testo. Quindi io gli lascio image to image. Quindi ho dato in pasto quella precedente, quindi seconda tecnica che possiamo utilizzare. E con Strength possiamo dire quanto deve essere forte questa cosa. Ok? Quindi quanto vogliamo che sia forte la coerenza nel utilizzare quell'immagine di partenza per questo prompt. Quindi la modifica che possiamo fare è quale? Togliamo riding a horse e diciamo brown hair and invece di red dress facciamo black dress and black dress a sword. Quindi una spada and accessories, ok? E lo andiamo a generare. E vediamo, ci spostiamo di qua. Vedete questo rimane qua sopra perché la Strength la possiamo modificare. Come sempre non ho toccato gli altri parametri, non vado a cambiare il modello, eccetera eccetera. Quindi adesso ci aspettiamo la stessa donna elfo di prima, ma il cambio qual è stato? Che abbiamo messo un vestito nero e adesso ci avrà anche una spada in mano. Vediamola, il vestito nero c'è. Ah, la spada, non gli ho detto la spada in mano, quindi la spada adesso è dietro il collo in realtà. Però guardate, è esattamente lo stesso personaggio. Se avete fatto delle prove in passato con questi strumenti sapete che è difficilissimo ottenere questo tipo di coerenza. altrimenti il personaggio cambia sempre randomicamente. Quindi vi consiglio di smanettare su questa funzionalità, utilizzare le due, caricare anche più immagini perché nella sezione dove possiamo caricare le immagini possiamo mettere fino a 4, eccetera eccetera. lavorare sia col seed e lavorare anche con le immagini invece che ricariciamo noi in pasto da dargli come input. Questo è come potete farlo con Leonardo. Ho fatto un tutorial molto simile dove mostro però molte più tecniche di come fare la stessa cosa su Dali, quindi dentro c'è GPT e lo trovate nella mia academy, dentro ia360.academy. Quindi se siete curiosi, appassionati di intelligenza artificiale e potete sapere di più, questa è un'ottima occasione per entrare e andare a vedere anche questo contenuto. Vi lascio invece a schermo, se non l'avete visto, il tutorial su Leonardo, perché se avete visto per la prima volta questo e non sapete cosa è Leonardo e volete sapere come utilizzarlo, che sono tutti quei parametri sulla sinistra, cliccate il video che compare adesso e andatevi a recuperare il tutorial su Leonardo.